Come hai le sensazioni positive? Sicuramente saprà darmi qualcosa in più, spero di poter dare qualcosa anche io a lui come tutti facciamo tra di noi. Aiutiamo in campo e fuori e con lui sarà lo stesso, spero che si inserirà subito nella nostra mentalità e ci aiuterà con le sue caratteristiche. Le sensazioni sono sempre belle, quando uno può anche per pochi minuti indossare una fascia al capitano sicuramente fa molto piacere e fa molto onore poter essere anche un solo secondo capitano del Cagliari. Ovvio che lo ero solo perché mancavano diversi dei nostri senatori, però è stato comunque un piacere. A me piace giocare molto la palla, lo ammetto. Poi ci vogliono sempre entrambe le cose, penso in un difensore, quindi cerco di dare il massimo in entrambe le fasi, ma ammetto che mi piace comunque anche giocare molto la palla e poter impostarla dietro. Mi sento di poter far parte perché ci conosciamo ormai molto bene e penso che sia importante perché è da noi che conosciamo la piazza, i tifosi e l'ambiente a trasmettere appunto quei valori che ci hanno dato molto e ci hanno permesso di vincere il campionato lo scorso anno. L'ho detto più volte, penso che sia una stagione molto importante, c'è tanta voglia di rivincita e per questo stiamo lavorando anche sodo in maniera particolarmente concentrata perché abbiamo voglia di dimostrare che questa categoria fa per noi.